possiamo caricare dei materiali pdf eccetera nel nostro corso model semplicemente trascinando dal browser del disco nello spazio del corso ora per farciò è necessario prima attivare modifica se io non clicco qui su attiva modifica che cosa succede succede che se io trascino un file per esempio non so qualunque file questo file qua e io lo rilascio nel corso che cosa succede succede che mi invita a caricare il file dentro il mio disco oppure semplice me lo apre se io però attivo la modifica clicco su attiva modifica e adesso vado a trascinare un file me lo mette dentro io vengo qua prendo questo file per esempio trascino e lo aggiunge ecco aggiunto il file tranquillamente nel mio corso posso poi cliccare su questo icona qua per cambiare il titolo che viene evidenziato nel corso estero stesso spero che sia stato utile buon lavoro